Buongiorno professor Muntoni, che cos'è la carenza di lipasi acida lisosomiale e cosa comporta? È una patologia che determina una disepidemia mista con bassi valori di HDL e che può portare intanto ad ateroscosi precoce ma soprattutto a una insufficienza empatica ingravescente che può portare anche alla cirrosi micronodulare. Qual è la sua incidenza nella popolazione? L'incidenza nella popolazione è sicuramente al momento sottostimata. Il sottoscritto ha portato avanti uno studio nel 2007 e abbiamo pubblicato una stima della prevalenza di questa patologia e secondo noi dovrebbe attestarsi intorno a 1 a 40 mila. Come se diagnostica? Ci sono delle linee guida? Le linee guida sono in formazione, non sono ancora esattamente codificate. Quello che possiamo dire è che bisogna cercare pazienti che abbiano bassi valori di HDL, possibilmente ben sotto i 40 nei maschi e sotto i 50 nelle donne, con una ipercolesterolemia e soprattutto una ipertigliceridemia accompagnata alla presenza o meno di steatose epatica e con insufficienza epatica ingravescente. Alcuni pazienti possono avere appunto una cirrosi micronodulare. Può essere curata? Sì, recentemente è stato creato l'alipasi ricombinante, l'assebelipasi alfa, che può essere infusa in dovena con un'infusione ogni 15 giorni e sta dimostrando appunto dei risultati estremamente importanti. Come agisce l'assebelipasi alfa? L'assebelipasi alfa viene intanto introdotta in dovena e va a localizzarsi a livello degli isosomi sostituendosi praticamente all'enzima non funzionante. Grazie professor Montoni.